Fata la mamma della Valeria Nazionale, Pratica Moinders, lei aveva, come si può dire, la mamma ha dato dei soldi a questo impresario e di lei no, questo tizio che gli aveva promesso degli investimenti finanziari molto redditisti, 350.000 euro per lei sono come per noi 3,50 euro. Cioè praticamente se la nonnina dà i soldi a quello che ti porta il carrello fuori dal supermercato di 50 centesimi non fa notizia, non lo so, sono quelle cose un po' strane, non so, se no il parcheggiatore abusivo del mezzosorno d'Italia, ecco, non è che fa questa notizia come può essere questa, che è una notizia un po' trash se vogliamo, però insomma è finita sulle prime pagine di tutti i giornali, noi sappiamo che il pandino è sempre sulla notizia, è lì, là, capito, lì, è presente, è presente, questa è la cosa importante, è presente perché vuole dare un'informazione vera.